allora celebriamo il 23 luglio la festa di santa brigida leggiamo un attimo il vangelo facciamo un breve commento ok parliamo del vangelo di giovanni capitolo quindicesimo versetti 1 8 in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli io sono la vite e il mio padre è l'agricoltore ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché importi molto più frutto voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziato rimanete in me io in voi come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite così neanche voi se non rimanete in me io sono la vite voi i tralci che rimane in me io in lui porta molto frutto perché senza di me non potete far nulla chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio è secca poi lo raccolgono lo gettano nel fuoco e lo bruciano se rimanete in me le mie parole rimangono in voi chiedete quello che volete e vi sarà fatto in questo è glorificato il padre mio che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli allora io partirei dalla fine perché gli spunti sono tanti in questo è glorificato il padre mio dice gesù che portiate molto frutto diventiate miei discepoli portare frutto portare testimonianza con la propria vita la parola di dio si mette in atto nella nostra quotidianità se noi nella nostra libertà accettiamo il progetto di dio quindi quando noi ci attacchiamo nostro signore gesù cristo per grazia giorno dopo giorno diventiamo testimonianza perché la nostra vita cambia davvero nella nostra quotidianità l'incontro con dio è qualcosa di estremamente sconvolgente che rende bella la tua vita e quindi tu cambi cambia la tua prospettiva sulle cose sulla realtà sulle persone lasciarci provocare dalla parola di dio qui gesù troviamo che parla i suoi discepoli tra questi discepoli ci siamo anche noi chiaramente io sono la vera vite e il padre mio è l'agricoltore ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto ci dice gesù quindi lui è la vite l'agricoltore è il padre che attraverso l'azione dello spirito santo fa in modo che noi che siamo i tralci diventiamo fruttuosi cosa vuol dire essere fruttuosi vuol dire che attraverso la nostra vita doniamo agli altri la grazia che abbiamo ricevuto e in questo è importante chiedere l'azione dello spirito santo uno spirito che illumina la nostra vita uno spirito di consolazione uno spirito di amore che ci permette di fare la scelta giusta di accettare nella nostra libertà ciò che dio ci indica attraverso la realtà di tutti i giorni rimanete in me e io in voi dice il signore quell'unione forte che diventa unione feconda come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vita così anche voi se non rimanete in me dice il signore è importante sottolineare quest'unione proprio quasi a ricordarci che da soli non possiamo fare nulla si possiamo compiere delle belle azioni come possiamo compiere delle brutte azioni fare il bene è sempre un qualcosa di positivo ma a noi come cristiani chiesto di fare il bene non come sforzo e non ci serve neanche per lavarci la coscienza facciamo del bene perché a nostra volta abbiamo ricevuto il bene di dio nella nostra vita è sentirci talmente amati perdonati guardati con carità che la nostra vita cambia davvero chi non produce frutto ci dice il signore lo raccolgono lo gettano il fuoco e lo bruciano non è una condanna di dio ma serve a ricordarci ancora una volta che gli unici giudici della nostra vita siamo noi con i nostri pensieri con le nostre opere con il nostro modo di fare sono le nostre opere che giudicano le nostre azioni se rimanete in me le mie parole rimangono in voi chiedete quello che volete e vi sarà fatto non c'è niente di miracolistico semplicemente quando incontri dio non puoi che chiedere non quello che tu ritieni giusto ma il bene per la tua vita e il bene per la vita degli altri è una sorta di abbandono fiducioso nato da una fiducia che concretamente diventa un qualcosa di realistico come l'incontro con dio deve essere una relazione che cambia il tuo cuore troppe cose ci sarebbero da dire ma non voglio dilungarmi troppo come sempre quindi vi saluto vi auguro una felice vita una felice festa di santa brigida